Donare il sangue sin da giovani vuol dire testimoniare concretamente che un atto d'amore può salvare una vita. Una giornata dedicata alla donazione di sangue è stata organizzata nell'Istituto Comprensivo Aristide Gabelli di Bari. L'iniziativa è dell'Avis Comunale Bari nell'ambito del progetto DIBES2 messo in campo dall'Istituto Scolastico per sensibilizzare i giovani a vari fenomeni, contrasto della dispersione scolastica, bullismo e cyberbullismo, educazione alla salute ed educazione stradale. La giornata dedicata alla donazione fa seguito ad alcuni incontri formativi organizzati dal personale dell'Avis rivolti agli studenti e alle loro famiglie. La donazione rappresenta la fase finale di un progetto cominciato con una serie di incontri finalizzati alla cultura del dono tra i giovani, perché è sulle nuove generazioni che si punta per individuare i nuovi donatori. L'obiettivo è stato questo, il coinvolgimento degli adulti attraverso le giovanimenti. Tra l'altro la formazione del giovane in questo momento viene quindi ampliata, viene portata a un livello più alto, viene acquisita la consapevolezza che non è solo quella della formazione scolastica, ma investe anche quella della formazione civica, quindi sanitaria, stradale, ciò che serve ad un futuro adulto per potersi ben districare in quella che è la realtà. Educare alla salute dunque si può partendo proprio dalla scuola. È un'iniziativa che abbiamo pensato di promuovere proprio nell'ambito delle attività dell'educazione civica e credo che sia un'iniziativa molto forte perché stiamo insistendo sul nostro territorio verso gli adulti, ma utilizzando un canale molto importante che è quello dei bambini, che come sappiamo sono sempre i più ricettivi per ogni cosa e pertanto sono il canale migliore per spingere i genitori a fare qualcosa di importante, ma per diventare loro stessi responsabili di quanto importante sia donare il sangue e come importante sia salvare la vita di qualcuno.